londra charlotte casiraghi prove di matrimonio per la bella monegasca la figlia di carolina di monaco era tra le invitati alle nozze di christian di annover 32 anni che ha sposato la fashion designer alessandra de osma 25 anni christian è il figlio di ernesto augusto di annoverede la ex moglie chantal oculi i due divorziarono il 23 ottobre 1997 ernesto augusto si sposò una seconda volta il 23 gennaio 1999 con cerimonia civile penutasi a monaco con la principessa carolina di monaco che all'epoca era incinta della loro figlia la principessa alexandra di annover nate al 20 luglio 1999 punto il dettaglio più interessante delle nozze di christian di annover è che charlotte casiraghi è arrivata in dolce compagnia in base a quanto si legge sul daily mail insieme a lei c'era anche il fidanzato dimitri rassam chi segue le vicende sentimentali della monegasca sa quanto sia riservata rispetto alla sua vita privata al punto che tranne durante le settimane della moda è molto difficile rimanere aggiornati su ciò che fa punto ci sono pochi dubbi però ormai sull'importanza della sua relazione con il produttore cinematografico dimitri rassame è l'unico uomo che ha conquistato il suo cuore dopo l'addio all'attore comico gadela malè con il quale charlotte casiraghi ha un figlio il piccolo raffaele anche dimitri è padre di una bambina nata dal matrimonio con la modella mash novo selova a questo punto la domanda che in molti si pongono è la seguente anche la bella charlotte è pronta a convolare a nozze con il suo compagno l'impressione è che la nipote di grace kelly sia uno spirito libero e non abbia fretta di voler andare all'altare i colpi di scena però sono sempre dietro l'angolo e un suo eventuale matrimonio sarebbe graditissimo nel principato di monaco